Il bagno lo farei, ma anche provocatoriamente, per rivendicare un mio diritto, il diritto di un essere umano di avere un ambiente vivibile. È chiaro che non ti uccide e farne uno di bagno, poi se ci viene a vivere e mangi gli alimenti che sono in zona, che non vogliono dirci di che cosa sono composti, di che cosa sono fatti, però è un peccato, è un peccato ti ripeto perché hanno preso tutto. Mio padre, un siciliano che è venuto qui e che mi ha insegnato soprattutto a lottare sempre e qualcuno mi dice ma come, ma tu non sei neanche sardo, la Sardegna è dei sardi, la Sardegna è di chi la ama. Purtroppo uno dei mali che abbiamo in Sardegna è quello che i sardi ancora non si ribellano. Io sono nato a Carbonia, da vent'anni entrato nell'inferno, nel mondo dell'industria, a Portovesme, la fabbrica dell'alluminio, mi ricordo il primo impatto, quando entrati lì vedevi questi forni, queste fiamme, vedevi i compagni di lavoro, oltre che la salute del proprio figlio e qualche problema l'ha avuto, vedevi anche dei compagni che si ammalavano, che morivano troppo in fretta e che si manipolava, perché poi è chiaro che se il giocoforza è stato costretto a documentarti, ma che cosa stiamo toccando, cosa manipoliamo nell'ambiente di lavoro, manipoliamo sostanze che sono pericolose e allora via lì da lavoratore ribelle a denunciare, a rifiutarti di fare certe operazioni, di scaricare determinati liquidi pericolosi della fabbrica attraverso la fonda, aprire delle valvole, dire queste cose poi ti hanno messo in una brutta condizione, dove gli stessi lavoratori, i compagni di lavoro che per compiacere al padrone ti andavano contro, non lo capivano, oggi se si va a vedere la mortalità dei lavoratori che sono passati in alumix, poi diventa talcoa, se ne stanno andando tutti, tutti, tutti i compagni, ogni mese sento lo sai che è morto quello, che è morto quell'altro, perché è così e qualcuno mi dava anche ragione, qualcuno in un punto di morte anche mi ricordo, un compagno che andava a trovare in ospedale e che mi aveva detto che ti avessi mi ascoltato. Siamo 30 anni e più che ci stiamo battendo, da quando lo sviluppo della Sardegna aveva deciso che in quel piccolo fazzoletto di terra, Porto Scuso, ci hanno concentrato col piano di rinascita la fabbrica dell'energia dell'Ene, ci hanno messo la fabbrica del piombo, dell'acido solforico, del cadmio, dell'alluminio, tutta la nazione italiana è venuta in Sardegna, è venuta a metterci tutti questi grandi impianti, perché queste aziende, compresa la Saras, devono sapere che danni stanno facendo, che cosa sta succedendo nell'intorno, nell'ambiente e nella salute della gente. A Porto Scuso, quando hanno preso il campione di sangue dei bambini delle scuole medie di Porto Scuso, ci sono stati dei risultati anche pesanti, però la cosa che mi aveva incuriosito e preoccupato era che in quel periodo avevo fatto fare la stessa analisi del sangue a mio figlio in un ente privato, l'ha fatto la medicina del lavoro e io l'avevo fatto in un ente privato, c'era la differenza del 100%, in quella ufficiale pubblica della medicina del lavoro risultava che ero al limite del consentito dove poi possono scaturire dei danni, in quella invece fatta in privato andava oltre del doppio. Avevo accusato il medico che si era occupato dell'indagine, il medico dicendogli, ma lei scusi mi dà la fotografia di un numero della piombemia nel sangue dei bambini e non va a vedere gli indicatori biologici di effetto, se c'è un danno biologico, quelli sono altri numeri che ti dicono che cosa quel numero che mi sta dando lei, se quel numero è vero, ma comunque sia quello che c'hanno dentro crea questo danno. Stiamo parlando degli indicatori biologici di effetto come la protoporfilina nona, l'ala dei drasi, che all'aumentare di questa sostanza maledetta nel sangue delle persone diminuiscono le protezioni del nostro corpo e allora gli ho detto che lei sta imbrogliando la gente, lo sapete che in quell'occasione lì io l'avevo offeso questo medico, gli ho detto che lei è un imbroglione e dopo neanche tre settimane questo medico si sentì in dovere di chiamarmi nel suo studio a Cagliari e dirmi Cremone io non sono un pentito, qui faranno ancora imbrogli, io ho dovuto fare così, modificare l'esito dell'analisi del sangue dei bambini delle scuole medie di Porto Scuso perché se no avrebbero chiuso quella fabbrica. Si è dimostrato che quel tipo di industria stava casando un danno, stava casando un danno maggiore, stava togliendo i posti di lavoro perché ha fatto sparire l'agricoltura che era bellissima a Porto Scuso, c'erano i migliori vini della Sardegna, il Carignano, gli allevamenti, c'era la gente che veniva a svernare a Porto Scuso, ecco loro hanno fatto questo danno qui. Questa è la mappa dei 42 SIN, i siti di interesse nazionale decretati per l'altissimo livello di inquinamento causato negli anni dalla presenza dell'industria petrolchimica. Ci sono i due siti più compromessi dell'isola, il petrolchimico di Porto Torres e l'area definita Sulcis iglesiente e guspinese che comprende anche i siti di Macchiareddu, Sarroc e Portovesme. Qui, ad essere gravemente compromessi, sono l'aria, il territorio, le acque di superficie, le falde acquifere e un lunghissimo tratto di costa, inquinato anche dagli scarichi delle miniere, oggi dismesse. In una sorta di accanimento terapeutico, il sito di Portovesme viene tenuto in vita grazie a continui ed ingenti stanziamenti di denaro pubblico. Nel 2012 ha preso il via il piano Sulcis, dotato di 697 milioni di euro. Il piano è scaduto nel 2019, ma non sembra aver portato i benefici previsti. Attualmente, a Portovesme, oltre all'indotto, sono insediate tre tra le più grandi multinazionali che si occupano della lavorazione di minerali, tra cui la bauxite, e la produzione di alluminio. Sono l'Euroallumina, che al momento tiene i suoi operai in cassa integrazione, l'Exalcoa, oggi Sideral Lois, che risulta chiusa, e la Portovesme SRL, che tratta i fumi di acciaieria provenienti dall'Inghilterra. Non una, ma possiamo dire più di dieci volte, sono stati trovati dei carichi, rispediti via dei carichi, perché risultavano contaminati da radiazioni. L'interesse era quello di far scaricare tutto questo materiale, perché ha un costo, e bruciarlo in quei forni. Da dove poi ne avrebbero recuperato, dicono loro, il 20% di zinco? Se fosse anche il 20%, prezzate un po', ci stanno arrivando rifiuti dall'estero, di cui l'80% di quelle ingenti quantità, parliamo di 300.000 tonnellate all'anno, finisce in una discarica, perché quella società è diventata da fabbrica dello zinco, del piombo, è diventata una fabbrica per smaltire i rifiuti. Da anni al centro dell'attenzione per la sua pericolosità, a poche centinaia di metri dalla centrale a carbone dell'Enel, sorge un enorme discarica di fanghi rossi, 20 milioni di metri cubi, stoccati in un'area di 159 ettari. A partire dal 1976, l'Eura Ollumina vi ha depositato i suoi residui di lavorazione pieni di metalli pesanti. Sino a quella data, i fanghi venivano tranquillamente scaricati in mare aperto e, in caso di maltempo, a pochi chilometri dalla costa. La Rusal, che controlla Eura Ollumina, ha da tempo presentato un piano di rilancio dello stabilimento, che prevede, tra le altre cose, il raddoppio della discarica, che verrebbe così sollevata a 36 metri di altezza sul livello del mare. Questi fanghi rossi sono ricchi di metalli preziosi, il 30% di quei fanghi contengono ferro, cioè non abbiamo bisogno di andare a scavare, sventrare colline, contengono vanadio, nickel, titanio, contengono lo scandio, cioè sono ricchi di alluminio, il 10% di quei fanghi sono pieni di alluminio, quindi si può lavorare per eliminare questa grande discarica, recuperando i tesori che ci sono messi dentro. 150 persone della Eura Ollumina, sono rimasti solo 200, invece che riavviare quella fabbrica con una nuova centrale a gas, possono essere utilizzati nel primo modulo da 200.000 tonnellate che dovrebbe lavorare questi fanghi, ce ne sono 20 milioni di metri cubi, ci sono 30 anni di lavoro, per portare a eliminare dal mare, da sopra il mare, questo grande mostro che sta inquinando, perché c'è anche un'esigenza di salute pubblica, perché la Procura della Repubblica, nella sua consulenza, nel suo consulente, dice che sta drenando a mare questa roba qua, con delle bonifiche che non fanno. A parte gli ingenti stanziamenti di denaro pubblico, in nome di uno sviluppo che è sempre stato precario in tutta l'isola, a Portovesme si continuano a calpestare impunemente i diritti dei cittadini. L'ultimo capitolo di questa storia riguarda il progetto per la realizzazione di un rigassificatore che dovrebbe portare il metano a tutto il sud-ovest dell'isola. Sostenuto dalla Regione e dal Ministero, ignorando totalmente la dirittiva Seveso in materia di sicurezza ambientale delle popolazioni, il progetto prevede l'ancoraggio di una nave gasiera nel porto industriale, adiacente al porto commerciale e turistico, e a poche centinaia di metri dall'abitato di Porto Scuso. Noi abbiamo, per esempio, una quota di 7 milioni e mezzo di euro del piano Sulcis, proprio per fare l'escavo insieme al finanziamento dell'assessorato dell'industria. A Livorno li hanno obbligati a costruirselo, a mettere la gasiera a 22 km dalla costa, e in quel tratto di mare è interdetto il traffico anche di una semplice barchetta nel raggio di 2 miglia. Vogliamo proporre un nuovo modello di sviluppo. Invece che mettere su questo grande impianto della rigassificazione, con i depositi del gas, al posto di questo c'è una proposta di un polo inautico internazionale. Cioè, questo gruppo di imprenditori ha dichiarato, ha presentato un progetto al Ministero dicendo guardate, prendiamo immediatamente 300 persone per fare la formazione e puntiamo a costruire yacht di lusso. Potrebbe cambiare il destino di questo paese, perché se si costruisce questo nuovo progetto del gas, è chiaro che viene vanificato tutto, non ci potrebbe essere più turismo, pesca. Grazie. 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 Grazie.